La presentazione della nuova ribalta, stagione teatrale, tutti i corsi che prendono il via con l'inizio della stagione autunnale. Iniziamo alla grande, la rassegna quest'anno sarà dal titolo sempre i diversi volti del teatro, come ormai è da tre anni a questa parte. I diversi volti del teatro perché sono appunto 16 spettacoli differenti, di generi completamente differenti l'uno dall'altro. Andiamo dal musical allo spettacolo sperimentale, alla commedia comica tradizionale, al dramma, al giallo, insomma per tutti i gusti. C'è anche musica, c'è danze folkloristiche, quindi veramente di tutto e di più. 16 spettacoli, 8 spettacoli di compagnie amatoriali del territorio salernitano ma anche provinciale e altri 8 spettacoli di compagnie professioniste che vengono anche da Napoli, non soltanto dalla provincia ma anche proprio dalla regione provinciale. e altri 8 spettacoli di compagnie professioniste che vengono anche da Napoli, non soltanto dalla provincia ma anche proprio dalla regione. Iniziamo anche con tutti i nostri corsi, i corsi quest'anno sono arricchiti dalla presenza oltre ovviamente della scuola di teatro che è la scuola che portiamo avanti da quando praticamente il teatro ha aperto i suoi battenti ma anche quest'anno dalla danza e dal canto che saranno le materie che introduciamo perché c'è la volontà di creare un corso di musical e quindi far sì che la formazione dell'attore sia a 360 gradi quindi recitazione, canto, danza. e poi quest'anno avremo anche la novità dell'arte terapia l'arte terapia che è un tipo di laboratorio che fortunatamente sta attirando sempre di più l'attenzione degli educatori, degli insegnanti e questo ci fa molto piacere, io sono anche un'arte terapeuta ed è focalizzata proprio all'utilizzo del teatro e delle arti in generale alla pedagogia e all'educazione nonché al benessere della persona e poi accanto a questo c'è la rassegna per bambini perché il teatro la ribalta dà attenzione anche ai bambini una rassegna di otto spettacoli, uno al mese, iniziamo ottobre e terminiamo a maggio dedicata ai più piccoli con fiabe, racconti ma anche storie tratte da libri di narrazione e questo con l'intento di avvicinare anche le nuove generazioni al teatro attraverso uno spettacolo che sia fortemente teatrale quindi cercando un attimino di distoglierli dai videogiochi e dalla tv e avvicinarli invece al teatro e soprattutto allo sviluppo della fantasia I corsi iniziano il 2 ottobre e invece la prima data della stagione teatrale Gli allievi della scuola di teatro la ribalta che l'anno scorso hanno messo in scena questo spettacolo come saggio di fine anno e adesso aprono la stagione con questo fuori programma è uno spettacolo comico, amatoriale, molto carino e poi successivamente ci saranno chiaramente tutti gli altri appuntamenti due spettacoli al mese grossomodo grazie grazie